La test Deimar con a largo il numero 5 di Overcraft Gar, passa Overcraft ma rinviene subito il 6 di insolito Gifar ed Attilio Golia c'è il composto in corda, 13-8, Overcraft al comando su insolito resta a largo il numero 7 di Lader d'Italia e Romeo Gallucci resta ai lati di Lates Deimar e Overcraft passa in 30 ai primi 400 su insolito Lader che rimane un po' lì mentre avanza in terza ruota il numero 2 di Nicobonest, 44-7 e Nicobonest e Lader d'Italia ora avanzano, vanno gradatamente su Overcraft Gar mentre gli 800 passati in un minuto, si aggia da 1,15, si fa fuori il 2 di Nicobonest, avanza in Parigi e anche il numero 14 di Oceano Dagi e il chilometro è passato in 15,1. Insiste Lader su Overcraft, trova dei varchi preziosi il 4 di ottobre PF mentre passa Lader d'Italia, ottobre R secondo, cerca di avanzare a largo di tutti Gaetano Di Nardo con Never Cappadete e ottobre PF si fa pressante sull'Ader d'Italia, si avvicina ancora l'undici a largo di tutti di Never Cappadete, si entra in retta arrivo, sono tutti fermi, Romeo Gallucci al comando su ottobre PF, di dentro ancora il 5 di Overcraft, a largo di tutti c'è anche il 10 di Oneida B, ma il palo si avvicina per Lader d'Italia che vince su ottobre PF e probabilmente ancora Overcraft Gar, 7,4,5 dovrebbe essere l'ordine arrivo, 2,1,4,1,15,7 per il favorito Lader d'Italia per il trist in giornata di Romeo Gallucci. E' tutto per questa riunione di corso e tutto anche per maggio, un arrivederci.